Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, certo viviamo in un mondo degradato. Beh sì. Moralmente, civilmente, molto degradato e deteriorato. Il PIL aumenta, più PIL per tutti, il PIL aumenta. C'è chi compra la casa, i vestiti, il computer, il cellulare, ma poi quello che sei è un'altra cosa. E così, oggi, nel mondo dell'internet, dei social, tutti, tutti, possono rispondere alla persona nota. Tutti. Tu puoi scrivere un commento e ti rispondono in 700, in 1000, in 10.000, secondo la tua notorietà. Naturalmente, ci sono centinaia o migliaia di persone che commentano quello che tu dici. Hai la persona amabile, la persona che ti stima, hai la persona che ti odia, la persona che ti invidia, e la persona che non è che odia o invidia te, ma in quel momento ci sei tu e ti odia. Così, perché sono i classici odiatori o gli invidiosi. Il punto è, il punto è, che una persona che è in vista, o diventa improvvisamente in vista, non può andare a leggere commento per commento, perché non esci più. Non ne esci più. Pensare che milioni di persone, che tu possa piacere a tutti, non è possibile. Non è possibile. Tu, anche se sei un santo, e hai l'aureola del santo, non puoi piacere a tutti. Lo dico al papà di Giulia, Gino Cecchettin, che si è imbattuto negli odiatori, negli invidiosi, in quelli che dicono che è tutto un complotto, che non è vero niente, che viene fatto solo per tirar fuori un tema sociale, quindi tutta una finzione, un complotto, e lui adesso dice, adesso io denuncio, due li denuncio, altri due li denuncio domani. Signor Gino, se lei si mette a guardare, a leggere tutti i commenti che fa la gente, non ne esce più. Ci ricordiamo che la figlia, che non mi ricordo come si chiama, l'altra, era lì che andava a guardare Salvini, mi ha detto, sei colpevole ergastolo. Vi ricordate la polemica, che poi Salvini non aveva fatto niente di male? Questa volta, questa volta Salviamo Salvini, non aveva detto niente di male. Faceva solo il garantista, in un'Italia che è garantista. tra la figlia che sta a guardare ogni sillaba che scrive Salvini, il papà che sta a leggere ogni commento, caro papà e cara figlia, ve lo dice uno che si prende insulti tutti i giorni, se io dovessi mettermi a leggere tutti i commenti. Ma dovrei andare in psichiatria, perché poi ci rimani male, quando senti gente che ti offende gratuitamente, offende te, offende la tua famiglia, offende il tuo lavoro, o dà giudizi senza conoscere assolutamente nulla di te. Per esempio, sul canale ci sono circa 3.000-4.000 commenti al giorno, 3.000-4.000 solo su YouTube, poi c'è Facebook, e poi c'è Instagram, e poi c'è Twitter, quindi i commenti potrebbero essere anche 4.000-5.000 al giorno. Immaginatevi se io dovessi mettermi lì, ore per ore, a dire, questo dice che sono simpatico, questo dice che sono antipatico, ma come mai? Ma io faccio il simpatico, perché mi dice che sono antipatico? Questo mi dice che ho la faccia come il... Perché? Ma come? Io cerco di essere onesto, cioè se tu ti metti a tu per tu con centinaia di migliaia di sconosciuti, ma diventi pazzo, ma non esci più. Quindi, signor Gino Cecchettin, lei che è diventata una persona nota, purtroppo, per un fatto non positivo, è diventata una persona nota, e anche l'altra sua figlia, io vi consiglio, da uno che si prende da 5 anni gli insulti, io come tutti gli altri, attenzione, non è che faccio vittimismo, fa parte del mestiere, fa parte del mestiere, ogni tanto ne trovo qualcuno per caso, perché quando apro il mio YouTube, ci sono gli ultimi tre messaggi, quindi quando apro la mia pagina, io vedo gli ultimi tre messaggi qua, leggo quei tre messaggi su migliaia, se c'è un insulto, cancellare la persona dal canale, cioè non cancellarla, non può più commentare, può vedere i video, se per sbaglio la vedo, tu sei una grandissima faccia, bannato, ma non finisco neanche di leggere il messaggio, attenzione, io per tutelarmi, quando comincio a vedere un insulto, al primo insulto, magari il messaggio è lungo così, al primo insulto cancello, non è che sto a leggermelo tutto, perché poi ti colpiscono queste cose, anche le persone più forti, vengono colpite da questi insulti gratuiti, perché poi ti chiedi, ma io cosa ho fatto di male, ma ti colpiscono, allora io consiglierei a Gino Giacchettin, di lasciar perdere, di non stare lì a leggere, non ne esci più, non ne esci più, fidati, te lo dice uno da cinque anni che prende gli insulti, c'è una certa esperienza, o fatelo dire da Salvini, da Meloni, quelli, per esempio, anche lo staff di Che Tempo Che Fa, che va a rispondere agli hater, sì, hater parisi, agli odiatori, per esempio, c'è questo, 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 uno, che scrive, nel senso, che Tempo Che Fa, fa la pubblicità sui social, dice, stasera ospite Gino Cecchettin, da Fabio Fazio, e uno scrive, indeciso, se fate più schifo voi o lui, e Che Tempo Che Fa risponde, fai schifo tu, scrive solo tu, senza dire tu, come dire, botta e risposta, ma, non, non, non serve andare a rispondere alle persone, quello, quando dice, indeciso, se fate più schifo voi o lui, è perché questa persona, probabilmente, sicuramente, immagina, che, che Tempo Che Fa, si fa pubblicità, per farsi ascoltare di più, e vedere di più, invitando, il personaggio del momento, e l'altro, invece, questo qua, magari, immagine, che va lì, per farsi pubblicità, o per sentirsi improvvisamente, un VIP, Allora, sull'intenzione di Che Tempo Che Fa, ovviamente, Che Tempo Che Fa, come tutte le trasmissioni, fanno a gara, ad invitare, i personaggi del momento, per fare audience, quindi, Su Che Tempo Che Fa, ma, questo padre, sinceramente, non lo fa, per mettersi in mostra, attenzione, questo povero genitore, sta cercando, di trovare un senso, adesso, alla sua vita, quindi, abbiate rispetto, per questo signor Gino qua, abbiate rispetto, arrivederci a tutti, e grazie. Grazie.